Ora di attesa per i 200 lavoratori della fallita APS Acque Potabili Siciliane, 36 comuni del Palermitano, nei quali il servizio idrico rischia di venire interrotto. Proseguono le trattative tra APS ed AMAP, dove nella sede di Palermo oggi si è tenuta una partecipata riunione dei sindaci dei comuni che potrebbero rimanere a secco. Il 30 settembre scade infatti l'incarico del servizio per APS. Le speranze si concentrano adesso su AMAP, nella speranza che possa acquistare il ramo d'azienda e garantire la continuità dell'erogazione dell'acqua. Rimane risolto tuttavia il problema degli investimenti necessari, che sono considerevoli. La priorità al momento è quella di salvaguardare i lavoratori ed il servizio, evitando disagi per migliaia di persone.